We wish a Merry Christmas, we wish a Merry Christ Ciao ma Ehi, non ti azzardare ad entrare Bene, non entro, scusa Non ti arrabbiare, intanto una cosa devo prendere, per favore Una cosa veloce Dai va, entra, due secondi però Grazie Ti avevo detto di non entrare Ma seriamente con uno straccio Ti è piacessa? Grazie